Ok, piano, 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 come ci sei? Cosa? È sparita? No, 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 siamo pazzi È sparita la... Siamo pazzi? E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stefano e che si giochiamo a GTA V E siamo tornati con un nuovo episodio del si può fare Prontissimi con tantissime nuove cose da provare Tutte segnate nel telefono, lo spoiler no, non ve lo faccio vedere Allora, oggi ne proviamo circa 5, 4, 6, un numero di questi Quindi quante? Tra 4, 5 e 6, poi vediamo, è un po' in base a come vanno, capito? Perché se sono molto fighe rimaniamo sul 4 Se invece alcune falliscono e ci rimaniamo male andiamo sul 5 e 6 per consolarci Ovviamente Allora, la prima che proviamo mi ha incuriosito molto perché ci hanno scritto proprio Non è banale Allora, la cosa è di riuscire a mettere una granata dentro una macchina Quindi invece di lì della macchina E quindi di semplice, spacco un finestrino, butto granata Spacco famiglia, esplode macchina, no? Non lo so Non lo so Non lo so perché non ci ho mai provato Appunto c'è scritto non è banale Quindi io ho paura che sia una cosa che sembra semplice Ma che ci farà impazzire Quindi prova tu per la prima volta Ti spacco i finestrini al volo Ma proviamo a spaccare anche da davanti Come vuoi, come vuoi Perché secondo me c'è più spazio Aspetta un attimo, vediamo se ci riesco Vai, a calci Ok A calci Ancora un po' più grande Sì, devi Aspetta Devi riempire tutto Cioè aprire tutto Vai Usa la mazzata golf Vai Ecco, grazie, grazie Allora vado, la tiro da lì Sì, no, è impossibile sbagliare, no? Eh, se ci entra sì Vai Se ci entra sì No C'è una forza di gravità L'hai visto? Cioè, ha rimbalzato sul nulla Sì, ha fatto proprio Ma questa cosa è strana Avevano ragione che non è banale Cioè, perché adesso non puoi mettere una granata dentro una macchina? Scusa, per... Cioè, la posso distruggere in tutti i modi Ma non posso mettere una granata nei sedili? Esatto Allora, voglio riprovarci un attimo per curiosità Scusi, signorina Ci serve la sua macchina per un esperimento di scienza proprio importantissimo Grazie a lei potremo scoprire la cura per tante malattie Tipo l'esplosione dei furgoni Soprattutto quella che hai tu quando dici queste cose, specialmente Allora, no, 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 non entrare Non entrare, non entrare Provo da solo No, vedi che spacca già il finestrino da solo Non la puoi buttare verso dietro? Tipo nei sedili dietro? No, vero? Guarda, vedi che si vede proprio la manina che mira fuori Esatto, esatto Allora, aspetta, stai fermo così? Ok Io mi avvicino il più possibile Perché ci stanno sparando? Ultimo tentativo, di nuovo da davanti perché è il punto dove c'è più spazio Eh, esatto, esatto Tanto dal finestrino non funzionava, giusto? Ci hai provato? No Ok Io ho provato dal finestrino, ho spaccato di nuovo, ha rimbalzato e è caduta fuori Spacco la macchina Ma dai, me la sto mancando Mira il vetro, mira il vetro Ma che non è semplice Ultimo tentativo Forza, forza, niente Ok Niente, niente, niente Quindi c'è un campo di gravità che impedisce di far entrare le granate dentro le macchine Vedi, abbiamo scoperto un'altra cosa Questo è molto deludente perché io speravo tipo che non esplodesse, che esplodesse in modo strano E invece a me è piaciuto E invece a me è piaciuto Invece non si può Appunto abbiamo scoperto una cosa che non mi aspettavo, ovvero che c'è un campo di gravità strano, una cosa No, è come se ci fosse, è come se ci fosse un vetro per le granate, proprio antigranate anche se rompi poi il vetro Esatto, esatto Quindi è molto particolare, molto strano La seconda cosa Forse è uno dei più strani che abbiamo provato alla fine Vai, vai, vai Mi ha interrotto in un collegamento fighissimo Vai, vai, la seconda cosa E la seconda cosa che dobbiamo fare è entrare nel negozio di vendita di armi Quando abbiamo la polizia Dato che in questo momento ho due stelline Entriamo Ok E vediamo se ci seguono Allora, tiro anche una granata in giro Così si ricordano che appunto siamo qua dentro Capiscono che siamo qui in zona Esatto, noi entriamo Spero che il tipo stia tranquillo e che non ci ammazzi lui Perché voglio proprio vedere se viene la polizia qui dentro Aspetta, aspetta, aspetta Hai notato la minimappa? Ok Si stanno avvicinando e ci hanno rivisto Quindi Aia Ah, che cavolo mi spari? Ma Ci ha sparato il venditore? Giusto? Solo a te però Ah, ok Ma non ho sparato Ok Ho le stelline pure io però Ma non lo so ma è proprio impazzito Io non ho fatto nulla e mi ha sparato Allora vedo la polizia Aspetta, è entrata, è entrata, è entrata È entrata? Sì, hanno aperto la porta e sono qui che mi sparano Sono entrati E io li ho visti arrivare ma non li vedevo dentro Aspetta che cerco di arrivare in tempo No, cerco di non farmi uccidere Vieni a vedere Li vedo, li vedo, li vedo Sono proprio entrati dentro il negozio Ha funzionato invece con il negozio E possono essere armati No, però stava succedendo Oh mio Dio Sta succedendo una cosa assurda Cosa? Praticamente Il tipo che vende le armi Si è arrabbiato con i poliziotti Non so perché E la polizia sta sparando su un portone chiuso Perché vorrebbe ammazzare il venditore di armi Quindi abbiamo scoperto due cose Non solo la polizia ti insegue dentro i negozi Ma se la prende pure con i negozianti che reagiscono Poverazzi Esattamente Fantastico E uno c'è dentro E non so se è morto il poliziotto O il venditore di armi Perché ormai è tutto chiuso Si, cioè lui ha chiuso E ha detto Ma frega nulla Voi continuate a sparare il nulla Io rimango qui Io non vorrei dire Ma questo si può fare È già partito col piede giusto oggi Mi piace già Già cose particolari Abbiamo 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 lagato la polizia di Los Santos Incredibile Continueranno per sempre secondo te Perché È molto ridicolo Li vedi che sono impegnatissimi Che tipo si coprono Nel Nell'angolo della porta Poi riprendono a sparare l'una Grandi pericoli Gli infissi della porta sono molto pericolosi Stanno cercando di taparli magari Guardali guardali Aspetta che chiamo subito i pompieri Se mi ricordo era 118 9-1-1 Non sei in Italia Ascolta siamo in Italia Sì ma non è il gioco Non mi interessa Vai 9-1-1 I poliziotti continuano se tu ti guardi le spalle Io ne metto chiamo i pompieri Poi vengo a rivedere se ci sono ancora Magari spengono i poliziotti non si sa mai Pompieri Grazie un'ottopompa si sta dirigendo verso la vostra postazione Dobbiamo rubare ovviamente la macchina Il veicolo dei pompieri Per provare due cose diverse che ci avete proposto Con i pompieri Ma cosa è successo nel mentre? Ci siamo distratti e un poliziotto è scomparso E l'altro ha lasciato perdere Si sono arresi dopo 5 minuti e hanno smesso di sparare Vedi che alla fine un cervello ce l'hanno anche loro È stato felice di sparare una porta per 5 minuti Come uno stupido Si è divertito? Si è divertito? Ha detto che ha finito le munizioni Solo per quello se ne va Altrimenti avrebbe continuato Allora i pompieri ci hanno totalmente bruciato Meno mai che ridi da solo Sembrano quelle freddure di pessimo gusto Che si fanno in prima elementare Eccoli non so come sono compartiti dall'altra strada Cosa dobbiamo provare? Uno me lo ricorda e l'altro no Quindi sto cercando un attimino di ricordarmi Andiamo bene Com'era l'altro Ah sì 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 Allora scendi dal furgone No dobbiamo mettere la bomba adesiva No Perché? Prima proviamo un altro Ok Si può morire dal getto d'acqua dei pompieri? Ovviamente lo scopriamo su di te Allora come facciamo? Vai un po' più avanti Tipo qua? Sì Allora sto Ok Ti sto togliendo vita Uh ma mi hai fatto malissimo Continua Continua Vieni 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 Continua Ok Come va? Sono praticamente morta Mi fai malissimo ogni volta che mi prende mi hai ucciso Ucciso Oh yes Ma ti sembra che vengono per salvarti e ti uccidono col getto dell'acqua? Lo sapevo Io ero sicuro che questo funzionava Ma tu non hai capito che a ogni getto che ho preso mi hai tolto metà vita Quindi praticamente poi sono rimasta l'ultima volta con un tantino così piccolo 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 di vita È un'arma letale questa E giustamente uccidi tutti Tu praticamente devi tirare una bomba adesiva al volo E io la devo acchiappare con il getto d'acqua e vedere se riesco a rifletterla e a respingerla No è impossibile Hai capito? Inizia a salire un attimino perché abbiamo la polizia ci tocca spostarci un attimo Oh non ci fanno manco divertire Dopo che ti ucciso Non mi sembra 3, 2, 1, vai Tira Non mi sembra Dove è finita? Non lo so Allora tiramene un'altra Aspetta Si è attaccata al muso del camion dei pompieri Ok Quindi per ora non l'ha respinta Allora scusami vai Allora mi devo allontanare se non muoio cerco di puntare drittissima No vabbè qua metti a tasse Hai smesso in quel momento No me l'hai tirata troppo alta è proprio sul Tira più basso Tira più basso Ok Niente vero? No Continua ancora più basso Prova con una granata Però ci sono Cioè sono perfettamente in linea d'aria Ancora più basso Mira proprio quasi sul muso Ok Capito? Più o meno all'altezza di io passeggero Eh esatto sto facendo quello Però la granata ora ti esplode Eh lo so Non funziona vedi? No non funziona Questo invece mi sei rispettato che funzionasse Il getto dei pompieri invisibile Ti ammazza E non può spostare neanche E trapassa gli oggetti Eh esatto Non può spostare le mine Le bombe Niente niente Pensa che divertimento se tu tiri E io rifletto e lo tiro su altri Capito? No non funziona Perché ti assicuro che in certi momenti No sì sì Ero proprio in linea perfetta Cioè sono sicurissima Si vedeva si vedeva Quindi niente 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 Peccato 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 Quindi questo non ha funzionato Allora possiamo scegliere tra due E davvero interessante Uno Non c'era anche un'altra Col camion dei pompieri o no? Eh no era morire con il getto E poi appunto Cercare di riflettere la cosa Ok ok ottimo Quanti ne abbiamo fatto in totale scusami? Non lo Quattro? Quattro Allora Quattro Ne abbiamo due molto impegnativi E molto fighi Dobbiamo scegliere Quindi ti faccio scegliere ok Uno è andare in un palazzo alto Buttarsi e atterrare sull'altro E vedere se l'altro tutisce Ok La caduta e non fa morire Sì ok ho capito Ho capito L'altro è prendere con il cargo Una macchina dove ci sono delle persone Ok E parcheggiare la macchina Nella ruota panoramica Ce l'abbiamo proprio qui civili eh Sì Cioè cosa fanno? Vanno avanti con la macchina E si buttano giù Scendono dalla macchina Rimangono lì fermi per sempre Cosa fanno? Io lo voglio sapere Idea E proverei quello sinceramente Sì dai andiamo di quello Quello che mi incuriosisce di più Quindi andiamo di quello Perfetto Allora prima di tutto rubiamo una macchina Poi arriviamo di nuovo all'aeroporto E speriamo di essere fortunati Come le ultime volte Ok E di trovare subito l'elicottero Corri 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 Abbiamo la polizia dietro Ma anche oggi Che noia sta polizia Primo colpo subito Guarda che è davvero Una fortuna Poliziotti Ho un video di voi Che sparate A una porta chiusa Senza neanche capire Cosa sta succedendo Quindi lasciatemi in pace O lo mando Alle emittenti televisive Più famose di Los Santos Per far capire Quanto la polizia È inefficiente In questa città Non si scherza con Ferinichi No provate a minacciare Ferinichi Andatevene Esattamente E infatti Sono andati in questo momento Basta 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 Era una minaccia Troppo pesante Per loro Sì Troppo potente No riconosciamo L'autorità di Ferinichi La regina Mi piace molto Sta cosa di partire al buio E che ti devo dire Sto facendo notte Aspetta il giorno Ci mettiamo una vita Sono un po' triste Io volevo iniziare A tirare uno spoiler Per il prossimo video Di GTA online Ok vai Infatti Abbiamo esattamente 1.380.000 dollari Che utilizzeremo Per una cosa chiamata Carro spazio armato Ok Perché Carro spazio armato Carro di nome Armato di cognome Ah era ovvio Ho capito Scusami Scusa non ce l'ho arrivata Comunque non mi interrompere Perché Perché vogliamo un carro armato Tutti vogliono un carro armato E perché in questo modo Potremmo iniziare a fare Tutti Si può fare Più folli E pazzi Esistenti al mondo Con i carri armati Perché andare ogni volta A forza zancudo E riuscire ad acchiapparne uno E poi provare le cose Sarebbe impossibile Invece così Ce l'abbiamo A casa Pronto Sempre lì Sempre pronto Per fare una bella passeggiata Col cane E quindi lo potremmo utilizzare Attaccato al carro armato Per tutti Si può fare Possibili Inimmaginabili È quasi giorno E diciamo che È l'alba Al momento Sì assolutamente Ne approfittiamo per intera Ad acchiappare una macchina Ok Così diciamo Che mentre finisce di fare giorno Noi siamo già prontissimi Allora L'ho attivato il gancio Sì L'ho preso? No Non ci sei Sei proprio col gancio Fuori dalla macchina Io lo vedo bene Guardando proprio da sotto Devi stare un po' più centrato Ok Allora cos'è Un signorino Una signorina Chi abbiamo? Mi sembra una signora Non capisco bene Perché non è che riesco A vedere dentro la macchina Mi spiace signora Io non volevo Allora per ora Sta restando dentro la macchina Io avevo paura Che appena presa Si lanciasse di sotto L'abbiamo fatto già con i poliziotti Eh ma lo sai Che i civili Sono un po' più instabili Quindi sai che Ti sorprendono sempre Nei peggio modi Diciamo che l'instabilità Che hanno mostrato oggi i poliziotti Non so se si può battere facilmente Allora Eh Sì vabbè ma quanto è difficile Ma cosa sto cercando Ce la puoi fare? Ce la puoi fare? Ce la puoi fare? Ok No c'eri 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 E lo so che c'ero Lo so che c'ero Lo so Allora Calma Calma Steph No L'hai fatta cadere di sotto Il problema è che vedi È tutta storta la macchina E quindi diventa impossibile Metterla lì dritta dritta Sì le hai tolto anche metà macchina Perché da una parte Proprio le manca metà macchina Quella che si prega Diciamo che questa macchina Non ha un gran bel destino Allora Dai Ce la puoi fare Sì Stavolta me lo sento Che è la volta buona No non girarlo Che poi si lancia di sotto È perché è impossibile Piano piano Mi devi dare tu le direzioni Perché io non posso vedere Allora va un po' avanti Ok Piano 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 Come ci sei? Cosa? È sparita No 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 Siamo pazzi È sparita Siamo pazzi? Cioè stavo scherzando? No vabbè Abbiamo entrato il bug della vita Oh mio dio Oh mio dio Devo riprovarlo assolutamente Quindi una macchina Messa sopra la ruota Con un civile dentro Non può stare sulla ruota panoramica Esatto Cioè ti giuro Dai si è bugato Poi hai realizzato Che l'avevi mollata E che è totalmente scomparta Sì Cioè non solo prima La signora si è buttata di sotto Quindi almeno Abbiamo capito Che se sballottoli troppo La macchina Si buttano di sotto Questa è una buona cosa Da aver capito Io sono scioccato Ma spalisce Cioè non ci può Ma se ci abbiamo messo di tutto Su quella ruota panoramica Infatti proprio se c'è il civile Sembrerebbe Non so come Cioè ci abbiamo messo Il motoscafo Questo si è lanciato Ma dai ma è stato bravissimo Signore Lei ha vinto un premio Ultimo tentativo Vediamo Se riesco di nuovo E se davvero Di nuovo scompare Allora Mi devi dare le direzioni Non pensare a commentare L'elicottero è stanco È stanchissimo Ho notato Ho notato Piano 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 No sei ciondolando troppo Non ce la fai così Infatti sto un attimino sistemando Praticamente ogni tanto Perde un po' di quota All'improvviso L'elicottero Ho notato Ho notato Perché ti sta uscendo Un sacco di fumo Sì Ok vai ci sei Ci sei Ci sei Ci sei Molla L'appoggio Attenzione Che sta succedendo Questa è rimasta Cosa sta succedendo E il civile è dentro Aspetta non riesco a vedere Neanche io La vedi No è scomparso il civile Cioè non dirmi Che se non scompare la macchina Scompare il civile Allora Comunque almeno sapete Che vedete Anche se la ruota si muove La macchina non si muove Che questa Era una cosa Che ci avete chiesto in tanti Sì rimane a fluttuare totalmente Ma c'è Sicuramente c'è Però è morto No non c'è Sicura? Sì sono sicura Ho guardato proprio bene Ho parto Allora Ho scomparato la macchina Ho scomparato il civile Quindi almeno abbiamo appurato Che un civile Non può stare sulla ruota panoramica Con un'auto Ok Perché uno dei due scompare Ho l'auto Ho il civile È la cosa più strana Del mondo Però è davvero così Cioè E comunque la macchina non si muove È altra cosa che abbiamo capito È un effetto Cioè sembra un'illusione ottica Adesso sembra che si muova Ma in realtà è ferma Quindi ci fermiamo così Per questo video È stato davvero super epico Poliziotti che sparano sui muri Getti d'acqua che ammazzano Getti d'acqua che trapassano sulle bombe E infine Civili che scompaiono Da una ruota panoramica Davvero Non potevo chiedere di più Granate che non entrano Nei veicoli Nei veicoli È vero Direi che come episodio L'insegna delle cose strane Sì l'episodio delle cose strane Di bug di GTA Perché davvero ne abbiamo scoperto Uno dopo l'altro È stato davvero strano Un po' Un po' inquietante Perché davvero che O scompare il civile O scompare la macchina Sta cosa E ancora me la digerisco È molto strana Non è proprio normale Da vedere Capito Quindi sì dai Ci sta Di sicuro mi aspettavo Continuate a consigliarci Delle cose particolari da fare Perché questa serie È diventata davvero ormai fantastica Con anche i vostri consigli È diventata davvero Troppo divertente da fare Credo sia piacevole Anche per voi Avere la possibilità Di comparire durante i video Quindi continuate a commentare Lasciate likes Tutto quello che vogliamo E ci fermiamo Così Spera che si riesce così Se ci sentiteci un bel like E se è la prima volta Che ho detto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao